Il mondo dei viventi Parte seconda La moderna classificazione Anticamente la classificazione era stata fatta da Aristotele. Ad Aristotele troviamo la distinzione fra animali vertebrati e invertebrati e fra gli animali vertebrati e invertebrati troviamo la moderna classificazione in pesci, re, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. In questa classificazione avevano un posto particolare i cetacei che non erano riconosciuti come mammiferi ma erano diversificati dai pesci. Questa classificazione non è stata superata fino al 1700 quando entrò in scena la classificazione di Linneo. Linneo era un grande botanico essenzialmente che ha inventato un sistema di classificazione. In base a questo sistema le specie viventi erano classificate basate sulle somiglianze fra gli organismi viventi e in particolare teneva a prendere molto risalto degli organi produttivi delle piante e in base alla differenza fra gli organi produttivi delle piante Linneo aveva fatto un'ottima classificazione delle specie botaniche. La stessa classificazione l'aveva fatta anche per gli animali. All'epoca di Linneo si pensava che le specie viventi fossero state create da Dio ed erano fisse ed immutabili. Pertanto l'unica cosa che toccava da fare a uno scienziato era quella di ordinarle in modo coerente e oggettivo. Ritorniamo qui nella scelta dei criteri oggettivi come abbiamo visto nella video-lezione precedente. Cioè quando si fa fare una classificazione bisogna prendere quelle cose fondamentali e trascurarle nelle altre. Ad esempio ordinare le piante fra quelle che fanno fiori bianchi e fiori gialli può andare bene per un ricercatore di campagna che vuole prendersi il diletto di classificare e di sapere che tipo di pianta sta osservando ma non ha alcun senso logico quanto si deve fare una classificazione oggettiva. Non possiamo raggruppare le pratoline e i fiori di mandolo semplicemente perché sono entrambi bianchi. Sarebbe uno sbaglio matornale perché sarebbe un criterio non oggettivo. Nel libro di Linneo, vediamo qui, è il sistema nature e vediamo che vi suddivide tutti i viventi in tre regni che sappiamo essere quello dei funchi quello degli animali e quello delle piante. e di questi tre regni i viventi erano classificati indivisi in classi ordine, generi e specie. A sinistra vediamo la riproduzione dell'inneo stesso. Questo invece è un'altra cosa molto interessante. Abbiamo detto che le piante venivano classificate in base agli organi riproduttivi qui vediamo un esempio di come Linneo nel sistema natura raggruppasse le piante in diversi oltre a seconda dei loro organi riproduttivi. La classificazione di Linneo è andata bene fino al 1850 circa. A quell'epoca esce un libro importantissimo l'origine delle specie di Darwin. In questo libro si affermava l'idea che le specie non siano fisse e immutabili nel tempo ma che tutti gli esseri viventi hanno un antenato comune. Che significa questo? Che tutte le specie che sosteneva Darwin discendevano tutte le specie da una o poche specie originarie e da queste attraverso le mutazioni si hanno avute tutta la planopia cioè tutte le varietà delle specie viventi che adesso ci circondano. Adesso sappiamo che questo antenato comune probabilmente fu solo uno anche se non sappiamo se prima di questo antenato comune ci fossero state altre forme di vita che comunque si sono estinte e non hanno lasciato nessuna discendenza. A partire da Darwin quindi si forma una moderna biologia sistematica che è un po' diversa da quella di Linneo ma che alla fine risultano pienamente sovrapponibili perché quella basata sulla somiglianza degli organismi in pratica si è rivelata un'idea giusta perché quando due specie sono vicine dal punto di vista sistematico cioè hanno un antenato comune molto recente tenderanno sicuramente ad assomigliarsi e andare a finire nella stessa classificazione di Linneo perché la classificazione di Linneo non è stata buttata al mare perché c'è stata la biologia evolutiva in realtà le differenze fra gli organismi fra due generi fra due organismi del stesso genere sono vicine perché si assomigliano dal punto di vista anatomico ma anche perché hanno un vicino antenato comune quindi le specie vanno via via diversificandosi acquistando caratteri sempre più diversificati man mano che ci si allontana da un antenato comune ad esempio se io prendo un uomo un babbuino e un elefante mi rendo conto che c'è una differenza molto fondamentale tra queste il babbuino assomiglia molto più a me che non l'elefante questo deduce al fatto che l'antenato comune fra uomo e babbuino un babbuino sta circa intorno a 30-35 milioni di anni fa quello con l'elefante arriviamo a circa 120 milioni di anni quindi è logico che io e l'elefante abbiamo delle somiglianze perché entrambi facciamo figli le specie somiglianze legate al fatto che siamo dei mammiferi cioè all'allattamento dei figli ma chiaramente la faccia di un babbuino assomiglia molto più a quella di un uomo che non la faccia dello scimpanze che non la faccia di un elefante questo perché l'antenato comune è molto più recente questo ci dice una cosa importante che la biologia sistematica moderna ricostruisce la filogenesi cioè la storia evolutiva dei gruppi di specie qui vediamo questa è una fotografia di Darwin questo è un disegno di Darwin a cui io sono molto legato e penso qualsiasi studioso che si interessi di evoluzione non può fare altro che rimanere affascinato di fronte a questo schema questo schema fa vedere come partendo dall'antenato comune gruppo 1 col tempo si siano apparse le specie A B C e D questo schema si trova nei tacquini di Darwin cioè in quei tacquini dove Darwin registrava tutti gli appunti che gli venivano in mente man mano che si andava avanti nelle sue ricerche e sono stati tutti quanti questi quaderni utilizzati per scrivere quello che è un grande libro che è l'origine delle specie il moderno albero della vita come potete notare con questa immagine a cui ci ritorneremo più avanti nel corso di questa lezione vedete che assomiglia tantissimo all'arbero di Darwin perché parte da un antenato comune che ha un nome si chiama Luca è chiaro che in italiano suona molto bene perché Luca è un nome di una persona e di conseguenza chiamare l'antenato comune Luca in Italia va benissimo ma in realtà è l'acronimo di ultimo antenato comune dei viventi praticamente scritto in inglese questa storia che l'antenato comune si chiama Luca per noi italiani va benissimo ce lo ricorderemo sempre allora come ricostruire un albero filogenico esistono dei sistemi per ricostruire la filogenesi cioè esistono dei sistemi che si basano sui fossili e un sistema che si basa sul DNA allora la prima cosa che possiamo ricorrere per lo studio della filogenesi è studiare i fossili e cercare di inserire questi fossili nella storia evolutiva delle specie che esistono ancora oggi il concetto di fossili non è solo la traccia dell'organismo che noi troviamo impressa nella roccia ma nel termine dei fossili sono compresi anche tutto ciò che l'animale tutte le tracce che l'animale ha lasciato quindi le impronte le tane e quelle che vanno sotto il nome di coprioliti cioè gli escrementi fossilizzati anche questi sono estremamente importanti perché un escremento fossilizzato se troviamo riusciamo ad assegnarlo ad una determinata specie possiamo immaginare facendo delle sezioni di quel copriolite e vedendo che cosa troviamo dentro di che cosa si nutisse quell'animale da queste cose possiamo intuire il punto in cui due raggruppamenti si sono separati questo è estremamente importante perché cercare di capire a quanto milioni di anni risale la separazione significa ricostruire la storia della vita di un organismo dall'altra parte possiamo utilizzare una cosa molto più importante dei fossili che è il DNA il DNA ce l'abbiamo in abbondanza oggi quindi se io voglio sapere la storia di un passero vado a vedere il suo DNA lo confronto con quello degli altri uccelli e vedo la vicinanza la lontananza di questi i fossili hanno invece un altro piccolo problema possono mancare quindi quando Darwin ha basato la sua evoluzione non è mai caduto nella trappola di utilizzare i fossili perché anche se questi fossili sono estremamente utili per ricostruire la filogenesi sappiamo che fra un organismo e l'altro fra un fossile e l'altro possono passare decine di milioni di anni e in questi decine di milioni di anni possono mancare questi resti Darwin utilizzava per i fossili questa analogia lo studio della vita attraverso i fossili è come un libro di cui noi possediamo pochissime pagine e di queste pagine possediamo poche parole scritte tanto per dirci che i fossili possono costruire la vita ma questa qui ci lasciano tante lacune invece gli scienziati hanno imparato molto a utilizzare il DNA il DNA c'è oggi e c'è in abbondanza qualsiasi biologo molecolare sarà in grado di dire che l'evoluzione è avvenuta anche se i fossili non esistessero perché basta per andare a studiare confrontare la vicinanza del DNA tuttavia la vicinanza del DNA come vedremo fra poco può portare qualche piccolo problemino che i fossili ci aiutano subito a risolvere perché è importante il DNA perché i cambiamenti che le specie subiscono col tempo sono strettamente legati a cambiamenti che subisce il proprio DNA quindi il materiale genetico subisce dei cambiamenti e questi cambiamenti si accumulano e col tempo non compaiono nuove specie a partire da un progenitore comune quindi la storia delle specie è rimasta intrapponata nel DNA e lì le pagine vuote non ci stanno allora cosa posso dire questo che se io vado a vedere la somiglianza di DNA che esiste fra l'homo sapiens cioè noi e il pantoroglottites cioè lo scimpanzee vediamo che dal punto di vista genetico le due specie sono uguali per il 98,5% allora questa separazione anticamente aveva portato a suggerire una separazione fra le due specie di circa 5 milioni di anni fa in realtà questa separazione è avvenuta un po' più dietro 7 milioni di anni fa e poi andremo a vedere in seguito perché è avvenuta circa 7 milioni di anni fa e non 5 come pensavano i genetisti qualche anno fa la cosa interessante di questo che cosa significa questo 1,5% questa separazione di 1,5% significa che il 0,75% è la separazione che è avvenuta nella linea umana e 0,75% è la separazione che è avvenuta nella linea dei cimpanzei significa che il nostro antenato comune rispetto a noi non aveva 1,5% di differenza genetica ma solo lo 0,75% ed è su questo che si basano i biologi evoluzionisti quando vanno a studiare la discendente quando vanno a ricostruire questi alberi filogenetici la differenza fra specie DNA la cosa interessante è che se vado a vedere la differenza fra Homo sapiens e gorilla trovo che è maggiore di questo valore e di conseguenza la linea e di conseguenza ci porta a una conclusione molto semplice che lo scimpanzè è un parente molto più stretto dell'uomo che dal punto di vista dello scimpanzè l'uomo è un parente più stretto che non il gorilla anche se dal punto di vista dell'aspetto tutti quanti sarebbero disposti a dire il contrario l'inneo non sarebbe stato abbastanza favorevole a dire che lo scimpanzè era più vicino che il gorilla era più vicino allo scimpanzè che non all'uomo anche se l'inneo quando ha studiato lo scimpanzè gli hanno portato si è trovato di fronte allo schelote di un crucciolo ed è rimasto estremamente perplesso perché un cucciolo di scimpanzè assomiglia all'uomo molto più dello scimpanzè adulto allora andiamoci a vedere questo ecco questo qui è un classico è il classico fossile che rimette in discussione la datazione per questo DNA e fossili nella filogenesi tentano ad inglobarsi a dare origine a qualcosa di comune questo fossile è il saleantropo il saleantropo è un fossile che ha fatto molto discutere nell'ambito dell'evoluzione umana perché è stato datato 6 milioni di anni fa ed è ha un foro uccipitale cioè la base del cranio cioè un foro dove si attacca la colonna vertebrale che è direttamente come si può vedere già da questa immagine direttamente va verso il basso quindi il saleantropo aveva un'andatura bipede quindi possiamo supporre che sia che sia un fossile successivo alla separazione fra la linea l'antenato comune fra scimpanzè e uomo in questo caso il fossile ha aiutato gli studiosi a retrodadare cioè a portare indietro la linea di separazione fra uomo e scimpanzè da 5 milioni di anni a 7 milioni di anni perché il saleantropo è chiaramente sembra a tutti gli effetti un fossile che sia più vicino all'uomo che non allo scimpanzè un altro fossile estremamente interessante per la ricostruzione della filogenesi è questo qui questo è il bambino di Tuang questo bambino di Tuang che è stato scoperto da Dubois all'inizio intorno al 1920 credo non ricordo vedete lo scheletro facciale e il calco di un cranio quando è stato scoperto questo fossile chiaramente non è una scimmia perché non può essere assimilato a una scimmia questo qui è molto più vicino all'uomo che non il saleantropo infatti questo qui è un fossile che è stato battezzato come Astrofitecus Africanus e chiaramente se dovremmo stabilire nella linea umana metteremo il saleantropo Pima e la Ferenzis dopo anche se tutto sommato poi le situazioni sono un po' più complicate di questo questi fossili ci insegnano quindi a ricostruire la filogenesi della specie umana e infine abbiamo la filogenesi riportata qui la filogenesi dei primati la nostra famiglia stretta come vedete l'antenato comune della filogenesi dei primati va a circa 65 milioni di anni e poi abbiamo i lemuri tarsi le scimmie poi abbiamo qui le scimmie le scimmie del vecchio mondo del nuovo mondo le scimmie le scimmie antropomorfe poi via via tutte le scimmie antropomorfe fino a vedere vedete la separazione 5-7 milioni di anni fa uomo e scimpanzè col gorilla che ha una separazione più antica l'orango che ha una separazione 12 milioni di anni fa il gibbone che ha 18 milioni di anni fa vedete che 35 milioni di anni è la separazione che ci porta la linea della discendenza dell'antropomorfe da tutte le altre scimmie in questo modo si fa è quello questa è la filogenesi moderna cioè inserire le specie tuttora viventi in una linea di discendenza comune con le varie separazioni stimare a quale anno a quante milioni di anni si sale questa separazione in base a questo noi abbiamo detto si formano gli alberi filogenetici infatti noi abbiamo visto già da prima ribadiamo ancora in base ai dati ottenuti dai fossili a DNA gli scienziati ricostruiscono gli alberi filogenetici quello che abbiamo visto prima era l'albero filogenetico dei primati un albero filogenetico è un diagramma che mostra le relazioni di discendenza comune esistenti fra gli organismi viventi perché alla fine le immagini che noi avevamo erano quelle relative a organismi che tuttora esistono l'uomo il gorilla lo scimpanzè l'orangotan il gippone i tarsi i lemuri le scimmie le scimmie le scimmie platarrine le scimmie catarrine che dopo hanno questo nome in questo momento questo qui era l'albero filogenetico dei primati quindi il risultato di questa moderna classificazione ha portato a uno sviluppo molto importante che è quello del concetto di dominio il dominio è un gruppo è un gruppo d'astronomico estremamente recente perché sicuramente voi alla scuola elementare avete parlato di regno ma adesso noi sappiamo che lo studio della tassonomia ci ha portato a un concetto che è molto più generico di quello di regno ed è il concetto di dominio il dominio è quello più alto il punto più alto nella classificazione dei viventi in base al tipo di cellula sono introdotti inizialmente due domini il dominio degli eucarioti e il dominio dei procarioti infine grazie a studi compiuti ancora una volta sul DNA i procarioti sono stati divisi in due domini eobacteria cioè batterio e gli archaeobacteria cioè gli archaea vediamo qui come si fa una classificazione utilizzando ad esempio l'arbro filogenetico dei dei cortati a cui noi apparteniamo come 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 filum allora all'inizio abbiamo un antenato comune che era un cordato poi a un certo punto c'è una cosa che ha distribuito la differenza la comparsa delle mandibole che significa che pesci salamandre rettili uccelli topi e scimpanzei hanno tutti quanti la presenza di mandibole i polmoni hanno fatto la differenza fra i pesci e tutti gli animali terricoli quindi la presenza dei polmoni ha separato i pesci da tenati terricoli la presenza degli artigli e delle unghie ha separato i rettili i mammiferi e gli uccelli dai da quelli che erano gli anfibi poi da questi poi vediamo che c'è una separazione in due gruppi da questo qui da una parte abbiamo gli animali dalle bellicce che hanno le mammarie che ad esempio che chiaramente vanno a finire nei mammiferi poi lo scimpanzai e il topo sono separati dalla crescita dal fatto che il topo è un roditore alla crescita di denti che continua e lo scimpanzai no la cosa interessante si vede da quest'altra parte la presenza del ventriglio cioè di una parte dello stomaco in cui ci sono dei sassolini che aiutano a triturare il cibo è qualcosa che i coccodrigli e gli uccelli hanno in comune e che ha le differenze dalle lucertole la presenza delle penne è un carattere di separazione fra il piccione e il coccodrillo e quindi abbiamo una filogenesi che si è leggermente qui rivediamo come abbiamo detto l'albero filogenetico basato su su quello che abbiamo visto sullo studio DNA abbiamo un antenato comune cioè il LUCA poi abbiamo i batteri gli archiag e gli eucarioti quello che bisogna e quello che si può notare è che dal punto di vista evolutivo e genetico gli archiag hanno qualche cosa in comune con gli eucarioti che non hanno con i batteri quindi gli organismi che stanno all'interno di questo gruppo sono più vicini agli eucarioti che non ai batteri infatti li vediamo sulla linea che vanno verso gli eucarioti allora andiamo a vedere il dominio degli eucarioti nel dominio degli eucarioti troviamo quattro regni almeno per il momento ma sicuramente possiamo stare tranquilli che con l'andare del tempo questi regni aumenteranno come vedremo nell'immagine finale allora prima abbiamo i protisti che sono organismi unicellulari nucleati perché il dominio dei eucarioti poi abbiamo i funghi che sono organismi che assorbono sostanza organica le piante che sono organismi che producono sostanza organica gli animali che sono organismi che mangiano sostanza organica e li vediamo raggruppati qui in una vecchia classificazione a cinque regni perché qui noi abbiamo il vecchio regno delle monere che sappiamo non esiste più e in questa classificazione non vediamo i domini non mi interessa nulla di quello che c'è in basso mi interessa far vedere che ci sono i protisti le piante i funghi e gli animali qui vediamo una cosa molto interessante come i vari studiosi hanno cambiato idea nel tempo su che cosa è dominio e che cosa è regno allora Heckel nel 1948 ripropone i tre tipi di regni animali piante prodiste e praticamente aveva messo i funghi insieme alle piante nel 1969 si fa la classificazione che abbiamo visto nell'immagine precedente cioè quella a cinque regni gli animali i funghi le piante i protisti e le monere poi abbiamo nel 77 una separazione a sei regni senza domini qui ancora qui nel 77 il dominio ancora non era contemplato animali funghi piante però ormai si era capita la differenza fra eobatteri e archeobatteri nel 1990 viene introdotto tre domini gli eucaria cioè gli eucarioti i batteria e gli archea nel 2004 c'è quest'altra c'è quest'altra separazione questo studioso riprende due soli domini cioè l'eucariota e l'eucariota ma diversifica molto i regni praticamente scompare il regno dei protisti che viene diviso in cromisti e protozoi quindi troviamo nel dominio dell'eucariota questi regni animali funghi piante cromisti e protozoi e nel dominio dell'eucariota in batteria e gli altri ha diviso questi due regni perché i cromisti fanno la fotosintesi e i protozoi possiamo dire che sia finito da qui neanche per l'idea lo scorso anno è stato due anni fa è stato scoperto questo stranissimo organismo che non è né un animale né una pianta né un fungo né un protozoo né assolutamente nulla questo animale appartiene a un gruppo tutto suo di cui non conosciamo assolutamente nulla e per i quali gli scienziati hanno proposto gli scienziati scopitori hanno proposto un nuovo un nuovo regno quindi come vedete la situazione della sistematica biologica è in continua evoluzione e sicuramente con l'andata del tempo troveremo altre sorprese qui vediamo un'immagine ripresa dal vostro libro con la filogenesi con termini di derivazione greco composta a prefisso filo che si filon che significa discendenza e genesi che significa nascita cioè la discendenza secondo la nascita comune qui abbiamo il nostro carissimo Luca che è vissuto come in minimo 3.5 miliardi di anni fa e se non ancora prima poi abbiamo il dominio dei batteri il dominio degli archea il dominio degli eucarioti con la classica divisione improtisti funghi piante e animali riassumendo gli alberi filogenetici illustrano le parenteli fra specie e gruppi di specie alla bassa dell'albero c'è la specie progenitice cioè l'antenato comune di tutte le specie successive nella parte alta dell'albero sono collegate le specie viventi i rami che non arrivano all'albero ci sono rami morti che vi sono raffigurati specie estinte che non ha dato origine a alcuna specie vivente gli alberi filogenetici contengono dei noti cioè punti in cui si stivano i vari rami lì abbiamo l'antenato comune a due gruppi di specie questa ancora è una immagine ripresa dal nostro libro vediamo l'antenato comune fra l'ucerto e le serpenti poi l'antenato comune fra l'ucerto e le serpenti e tartarucche più indietro abbiamo il rettile primitivo poi abbiamo la linea che separa i dinosauri poi i dinosauri e i pterosauri come specie estinte con crotrilli e uccelli e mammiferi come specie originale ciascuna ridiremmazione significa l'antenato comune il vostro libro non rende giustizia alla discendenza degli uccelli e dei dinosauri ma chiaramente devo tenere a tenuto conto della semplicità perché se dobbiamo andare a vedere la discendenza dei dinosauri significa che noi abbiamo che è vero i pterosauri sono una specie estinta che si è saprata prima dei dinosauri e che i coccodrilli si sono separati diversamente ma alla fine se noi andiamo a vedere l'ultima parte di questo di questo di questo grafico quello più esterno vediamo che in realtà uccelli e gli uccelli derivano da un gruppo di dinosauri ma chiaramente questo dettaglio il vostro libro il vostro libro potrebbe farvi vedere come ci siano delle specie morte dei rami morti in cui ci sono delle specie estinte in realtà i dinosauri sono ancora fra noi e hanno un nome si chiamano uccelli di rami morti